I carabinieri di stanza d'Acate, dopo una serie di accertamenti e ricognizioni effettuate anche con l'ausilo di elicotteri, hanno denunciato in stato di libertà due fratelli vittoriesi, entrambi imprenditori e con precedenti di polizia. I due, in qualità di titolari di una cava di calcarenite, ubicata in una zona rurale fuori Acate, avevano realizzato al suo interno un terra pieno di mille metri quadrati per una profondità di circa 5 metri e nel quale sono stati rinvenuti rifiuti di plastica lavorata, nascosta all'interno di grossi sacchi di nylon, in parte ricoperti di sabbia. I militari dell'arma hanno accertato che il tutto era stato realizzato senza alcuna autorizzazione ed effettuando quindi un'attività di gestione di rifiuti abusiva, in netto contrasto col decreto del 2006 sul Codice dell'Ambiente. Le aree incriminate è stata pertanto sottoposta a sequestro preventivo e i due fratelli sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Ragusa. Uno dei due, tra l'altro, era stato già denunciato per la stessa violazione di legge, sia nel 2002 che anche l'anno scorso. Grazie.